Luigina, sai cosa? Una volta tu? Abbiamo fatto un libro che ti volevi, su tutti i proerbi, ma io adesso non ce l'ho più quel quaderno, almeno ce l'ho chissà dov'è. Mettiamo un po' in ordine, cerchiamo. Io te l'ho dato però anche a te, te li hai buttati. No, io ce li ho tutti. E allora ce l'hai, che avevamo scritto in italiano e in dialetto. Allora sì, me lo ricordo, me lo ricordo. Abbiamo fatto, ho fatto dare della direzione a tutti che sapevano e abbiamo fatto tanti proerbi. Sai cosa stavo leggendo qua? No, cosa stai leggendo? Solo i tuoi amici ti diranno quando il tuo viso è sporco. Se ci pensi, ripensando proprio a ieri, tu sei veramente una mia amica perché ieri mi hanno detto guarda sei pieno di foruncoli. Così da nulla. Grazie, così. Eh sì, perché uno che non ha amici, non ti può dire guarda che hai il viso sporco, guarda che c'è una macchia, guarda che non può dirtelo uno che non ha confidenza. Quindi più sottolinei che ho dei bruffoli, più mi vuoi bene. E certo. Ma quanto mi vuoi bene? Tantissimo. Grazie, grazie. E al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Sì, è un detto che è anni che si dice. Sì, però non l'ho mai capito. Cioè so che fa rima, però non è che... Perché se ti auguro la fai sapere, lui c'è scritto, dopo te la faccio leggere dove è scritto, perché se tu te la fai sapere, allora ti mangiano tutto il formaggio e tutte le pere, tu non ha fatto più niente. Io non sono sicuro che sia così la realtà. Dopo cerco cosa vuol dire. L'ultimo, poi il caffè è pronto, contadino, scarpe grosse, cervello fino. Cosa vuol dire? Perché il contadino, sì c'è i piedoni che però sa far la terra, sa fare tutto, sa fare l'orto e sa farti dare la roba che mangi, non stupidate. Contadino è uno che ti aiuta a vivere. Contadino, cervello fino. Sì, ma sai dove li ho presi io? Da quello... E' lì il libro, e' lì quel libro che...